Siamo di nuovo in studio con le nostre ospiti, la dottoressa Toscanella e la dottoressa Vatteroni, sempre per parlare del piede diabetico. Ecco, dottoressa, lo screening è molto importante. Per queste persone affette da diabete, ogni quanto è necessario fare uno screening nei centri dedicati? Allora, dipende da quanto è a rischio quel piede di lesioni. Esistono delle classi di rischio, proprio da zero a tre. Ora, per individuare la classe di rischio di quella persona, di quel paziente, noi dobbiamo andare a fare appunto lo screening. Che cos'è questo screening? Perché le persone magari non sanno di che si tratta. È una visita, è una visita che, diciamo così, appunto al piede, dove si valuta la parte arteriosa, quindi si palpano i polsi, come vedete. Si palpano sia manualmente, quindi i due vasi più importanti, il pedidio, quello dorsale, sul dorso del piede, quello laterale, mediale, scusate, del tibiale posteriore. E poi, se non si sentono, si va a cercare con il dopplerino, come vedete, il flusso, per vedere fino a sotto le dita com'è. E questo, diciamo, è la parte vascolare. E poi c'è lo screening della neuropatia. Quindi, in che cosa consiste? Noi abbiamo questi presidi da usare, che è il monofilamento. Lo si fa prima sentire al paziente sulla mano, poi sul piede. Ci sono dei punti specifici e il paziente deve sentire, ad occhi chiusi, ovviamente, se sente e quando sente, dove sente. Oppure la sensibilità vibratoria, diciamo così, con gli altri, con il diapason e il biotesiometro. E infine si valuta la motilità dell'articolazione della caviglia, delle dita, del piede, perché diciamo che con il tempo, piano piano, questo tipo di articolazione diventa sempre più rigida e è per questo che poi può dare problemi sulla deambulazione. Bene. E le classi di rischio, eccole qua. Quindi abbiamo da 0 a 3, come vedete, la persona che non presenta né la neuropatia né la vasculopatia, quindi lo farà ogni anno ed è una categoria a rischio ulcerativo 0. Se invece abbiamo presente la vasculopatia o la neuropatia, è una classe di rischio, diciamo, bassa, un classe 1 e quindi la farà ogni 6-12 mesi. Viceversa, se presento l'uno o l'altra, oppure sono presenti delle deformità dovuta alla neuropatia motoria, quindi anche un alluce valgo ha la sua importanza, anche le dita in griff hanno la loro importanza, un piede cavo avrà una classe di rischio moderata e la farà più spesso ogni 3-4 mesi. Ovviamente se già c'è stata una lesione, se già c'è stata un'amputazione o se il paziente è in dialisi, questo secondo le nuove linee guida 2019, la classe di rischio sarà molto alta, quindi classe 3 e dovrà farlo addirittura ogni 1-3 mesi. Bene, ecco, dottoressa Batteroni, il ruolo del podologo, insomma, è un ruolo molto importante nella patologia del piede diabetico, ma qual è il ruolo del podologo? Che cos'è un podologo? Che cosa fa esattamente in questo caso? È una figura che è ancora un po' sconosciuta. Allora, parto dalle basi dicendo che è un professionista sanitario, si acquisisce questo titolo che è un titolo di laurea, una laurea triennale che rientra sotto la facoltà di medicina e chirurgia. Allora, il podologo si occupa con metodi incruenti di quella che è la salute del piede e diciamo che insieme in un team multidisciplinare fatto da medici e da altre figure sanitarie si occupa delle patologie a rischio. Fra queste patologie rientra anche il diabete. Nello specifico il nostro ruolo nel piede diabetico è quello sia di prevenire che di trattare. La prevenzione la facciamo attraverso l'educazione del paziente, quindi insegniamo come si deve prendere cura dei suoi piedi, attraverso le calzature giuste, calzature, la terapia ortesica plantare e digitale e il trattamento ovviamente attraverso tutta una serie di medicazioni avanzate con le quali noi andiamo a trattare queste lesioni e lo scarico appunto delle lesioni. Ovviamente tutto ciò è visto in un team multidisciplinare, non esiste il podologo da solo. Bene, ecco, lei lavora all'IRCA quindi è presente in ospedale, ma oltre ad essere presente in ospedale dove si può trovare un podologo? Il podologo si può trovare anche nei distretti asli in cui è previsto un trattamento o uno screening del piede diabetico e sul territorio lo possiamo trovare anche come libero professionista. Diciamo che anche come libero professionista ricordiamo che i trattamenti podologici sono comunque delle prestazioni sanitarie, quindi si possono tranquillamente scaricare nella dichiarazione eredite. Non va confuso con quello che è un trattamento estetico, quindi non va confuso con l'estetista, col callista. Quello che noi facciamo è tutto un altro tipo di trattamento. Noi ci occupiamo del piede doloroso e quindi di patologie, non di problemi estetici. Siamo dei professionisti sanitari, non estetici. Dottoressa Toscanella, prima abbiamo parlato di quanto è importante mantenere il controllo della glicemia nel piede diabetico. Vogliamo sottolineare un'altra volta l'importanza di questa cosa? Assolutamente sì. Diciamo che è di rimente perché un buon controllo glicemico fa in modo che la neuropatia e la vascolopatia non avanzino, quindi rimangano nel momento in cui vengono diagnosticate. Se vengono diagnosticate possono non avanzare, come tutte le complicanze e soprattutto nel momento in cui a maggior ragione ci dovessimo fare una piccola lesione, ripeto anche una piccola vescica, qualsiasi tipo di disepitelizzazione della pelle a livello del piede, un buon compenso fa sì che guarisca rapidamente. Quindi bisogna stare veramente, essere molto attenti come per prevenire l'infarto, prevenire tutte le complicanze, così anche il piede senz'altro. Dottoressa, quanto incide il sovrappeso nel piede diabetico? Beh, incide anche perché, come abbiamo accennato, se a tutto quello che abbiamo detto mettiamo anche il peso, è ovvio che il paziente si trova con difficoltà deambulatorie non indifferenti. Anche la circolazione in parte ne risente, magari di più dal punto di vista venoso, però avere poi problemi venosi e arteriosi è una bella complicanza e poi bisognerebbe muoversi quindi più che mai per il diabete e quindi l'obesità complica veramente tutto, a tutti i livelli. Comunque è importante, dottoressa, fare anche un'attività motore, immagino, anche per stimolare la circolazione. Esattamente, quindi viene sempre detto questo, purtroppo non sempre si istruisce al paziente alle calzature, perché ci sono delle calzature adesso anche ortopediche che però sono praticamente uguali, come possiamo vedere esteticamente, alle calzature normali, sportive. Invece queste sono ortopediche dove si può inserire dentro un plantare. Per cui non si istruisce mai magari il paziente diabetico e gli si dice di fare attività motore o attività fisica senza precauzione sul tipo di calzatura o se deve addirittura indossare dei plantari. Quindi questo è importante che le persone con diabete lo sappiano, usare calzature idonee. Certo, soprattutto se si fa dell'attività motore, tipo anche una camminata. Anche la semplice camminata, assolutamente sì. Bene, dottoressa Vatteroni, ecco, invece quanto incide avere una patologia osteoarticolare come l'artrosi, la scoliosi, insomma una protesi al ginocchio? Incide, incide perché comunque il piede diabetico ha un assetto biomeccanico sballato, cioè a causa di questa neuropatia che abbiamo detto è sì sensitiva ma è anche motoria, quindi ci procura un'atrofia dei muscoli intrinseci del piede per cui si arriva ad avere delle deformità. una scarsa mobilità articolare, quindi avremo una caviglia che non è mobile quanto una caviglia fisiologica. È chiaro che il piede, oltre ad essere un organo di moto, è anche un organo di senso che quindi per tutta la propriocezione, la postura, aiuta a compensare quelli che sono degli squilibri che possono essere di ginocchio, di anca, di schiena. È chiaro che avere queste patologie che lei ha elencato su una persona che ha un piede che non riesce a compensare è molto grave. Quali altre patologie, dottoressa, si possono avere nel piede diabetico? Allora è chiaro che il piede diabetico comunque può essere soggetto a patologie che non sono di solo appannaggio del diabete. Ad esempio ci sono tante patologie dermatologiche, c'è la psoriasi, la dermatite, qui vediamo delle foto, iperidrosi, disidrosi. Sono tutte patologie che andandosi a trovare nel piede diabetico è chiaro che sono più ingravescenti. Una semplice onicodistrofia, un'unghia più spessita può causare dei traumatismi che in un diabetico possono portare ad un'ulcerazione che poi non tende a guarigione. Quali sono, dottoressa, le strategie per prevenire le complicazioni? Allora, noi facciamo sempre educazione sanitaria ai nostri pazienti, abbiamo delle regoline che gli diamo sempre. La prima, diciamo il caposaldo di queste regole è tenete sotto controllo i vostri piedi, poiché non hanno il grosso campanello d'allarme del dolore, questi piedi vanno controllati e monitorati tutti i giorni, specialmente nelle zone che in genere non si vedono, negli spazi interdigitali, sotto la pianta, quindi con l'aiuto di uno specchio vanno controllati, lavati adeguatamente tutti i giorni, asciugati per bene, non sottoposti a fonti di calore, quindi niente phon, niente metterli accanto al camino, borse dell'acqua calda, termosifone, sembrano cose banali ma vanno dette, non vanno tenuti a mollo, quindi vanno lavati sotto acqua corrente e asciugati. per il taglio delle unghie, la gestione delle ipercheratosi, dei cali bisogna rivolgersi a del personale sanitario appunto al podologo perché si possono creare delle lesioni, calzature adatte, quindi tutte quelle che abbiamo prevenzione primaria o secondaria a seconda del caso, terapia ortesica plantare che ricordiamo si chiama terapia apposta perché è una cosa che va fatta, spesso noi diamo plantari e calzature e quello dice va bene le metto un'oretta poi dopo metto un'altra roba, non va bene. Perché il piede non può essere tenuto a bagno nell'acqua? Perché la pelle è una barriera che noi abbiamo, se noi la teniamo troppo nell'acqua tende a macerarsi e macerandosi diventa diciamo più debole e viene meno questa sua funzione di barriera. Quindi quando un paziente va al mare d'estate deve fare anche attenzione, insomma stare a bagno nell'acqua del mare. Infatti il paziente diabetico non deve camminare scalzo, questo vuol dire non camminare scalzo anche al mare, specialmente perché la sabbia scotta, noi lo sentiamo, il paziente diabetico magari lo sente e dopo un po' ci sono capitati diversi pazienti che avevano ostioni causate dal camminare scalzi sulla spiaggia. Bene, ci sono altre precauzioni Olede perché ne ha elencate molte. Eh sì, ce ne sono tante, bisogna stare attentissimi. Ecco, bene, bene, benissimo. Dottoressa Toscanella, ecco quanto è importante quindi l'informazione e l'educazione della persona con diabete perché ecco ha elencato tante cose la dottoressa che magari la persona con diabete non sa. Non sa, infatti appunto ci capitano spesso i casi come diceva Michela e anche pazienti per esempio che indossano calzature scarpe antinfortunistiche. Queste calzature avendo il puntale di metallo e avendo delle caratteristiche di grande rigidità e non avendo la sensibilità la persona con diabete ovviamente che indossa questo tipo di calzature spesso e volentieri va incontro a delle lesioni. Quindi a volte ci sono delle banalità che invece bisogna conoscere bene e a fondo e va sempre detto tutto questo all'inizio quando uno inizia a avere 126 di glicemia secondo me cioè in modo tale che il paziente si abitui a controllarsi, a curarsi, a avere cura di sé. E quanto è importante quindi dottoressa la formazione del personale sanitario? Sì perché anche in quest'ambito questa è un po' una patologia particolare, una sorta di super specializzazione diciamo così perché ha tante sfaccettature dal punto di vista riabilitativo, dal punto di vista vascolare cioè proprio per questo il team multidisciplinare è grandissimo e non sempre si è così formati come in tutte le super specializzazioni. Quindi noi stiamo facendo insieme con l'associazione dei medici diabetologi e con la società italiana di diabetologia quindi la SID e l'MD, proprio corsi di formazione diciamo così ripetuti a tutto il personale proprio affinché il paziente possa essere in qualsiasi ambiente si trova tutelato e informato. Ecco ora ci vuole dire che ruolo ha il medico di famiglia nel paziente con il piede diabetico? Perché prima lei ci ha detto insomma che la prima persona a cui si deve rivolgere il paziente con il piede diabetico è proprio il medico di famiglia. Sì assolutamente e la formazione infatti riguarda anche lui però è molto importante perché dovrebbe essere la persona che conosce appunto bene il proprio paziente e a cui il paziente si rivolge alla prima problematica quindi deve aver chiaro proprio dove della gravità o meno della situazione del quadro clinico che gli si presenta e poi proprio in base a questo capire se è il caso di inviarlo o dal podologo o ai vari livelli in base alla gravità del caso quindi ha un ruolo proprio di triage in un certo senso. Bene ecco e invece dottoressa la persona con il piede diabetico cioè perlomeno le persone che hanno il piede diabetico ecco tutte sviluppano il piede diabetico oppure ci sono delle persone insomma che invece non hanno questo problema. Esatto diciamo che tutte le persone che hanno durante la loro vita e durante la loro malattia che è una malattia cronica appunto sviluppano una neuropatia per cui gli viene messa in evidenza una neuropatia alle gambe avranno un piede neuropatico. Se svilupperanno un problema vascolare avranno un piede vascolare diabetico, un piede diabetico vascolare pertanto se non svilupperanno mai la neuropatia e la vascolopatia non avranno il piede diabetico. Bene ecco si può pensare insomma dottoressa che un giorno si arriverà per chi è affetto da piede diabetico di non avere più lesioni o amputazioni perché purtroppo insomma è un problema molto grave, molto serio. è la grande problematica. Sì, dico sì perché nel momento in cui riusciremo a formare sempre più persone e si farà una prevenzione vera, si farà informazione, voi la state facendo, questa è una cosa molto importante per cui una volta che si farà a tappeto informazione, educazione e si formeranno tutti gli specialisti io penso che arriveremo, già si stanno riducendo drammaticamente le amputazioni maggiori che vuol dire di gamba e si stanno riducendo anche le amputazioni minori, quindi questo trend c'è, siamo ottimisti. Bene, benissimo. Ora noi ci fermiamo per un'altra piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco sempre con la dottoressa Toscanella e la dottoressa Batteroni per parlare del piede diabetico e come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Con Dental Coop il sorriso è per tutta la famiglia. Affidati ai nostri esperti per una consulenza personalizzata e per ogni tipo di cura sia patologica che estetica. L'eccellenza nelle cure adontoiatriche ha condizioni chiare e vantaggiose. Modalità di pagamento personalizzate, aperti anche il sabato. Vieni a trovarci nelle nostre sedi di Ancona, in quella di Iesi o nella sede di Monte Cassiano. Prenota subito la tua visita. Fai vincere il benessere, scegli Valle Bio, prodotti biologici ad Ancona, zona baraccola. Valle Bio è supermercato con prodotti biologici, ortofrutta fresca, alimenti dietetici, macrobiotici, percilieci e intolleranti, è erboristeria e tanto altro. Con un forno interno si produce una vasta gamma di pane e prodotti di pasticceria con farine biologiche integrali e di grani antichi, a chilometro zero. C'è anche l'angolo gastronomia, sempre di produzione interna, catering, forniture per feste aziendali e private. Su vallebio.it trovi tanti prodotti in offerta, da spedire in tutta Italia. Valle Bio, prodotti biologici, vicino al centro commerciale Mirum, via Valenti 1, zona baraccola Ancona. Fai vincere il benessere. La salute prima di tutto. Una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie, a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura. Per questo, da 20 anni, il Centro Diagnostico e Riabilitativo Associati Physiomed, a Sforza Costa di Macerata, ti accoglie nella grande sede ambulatoriale, avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati, che vantano una consolidata esperienza. Associati Physiomed si trova in Via Natali 1, a Sforza Costa di Macerata. A Sforza Costa di Macerata,